Ciao, sono Federica e oggi proporeremo insieme una ricetta per il giorno dei ringraziamenti. La casseruola di patate dolci con il marshmallow. Gli ingredienti per 6 persone sono 1,8 kg di patate dolci, 225 g di zucchero, 60 ml di latte, 120 g di burro, 2 uova grandi, 1 cucchiaio di vanillina, un pizzico di sale, 150 g di complex, 50 g di noci tritate, 20 g di zucchero di canna, 10 g di burro frutto e 50 g di marshmallow. Per prima cosa frulleremo con l'aiuto di un mixer le patate dolci, lo zucchero, le uova, il latte e il burro. Una parte del burro tenetelo da parte, circa 10 g per poi fare il crumble, panellina, sale. Dopo aver messo il composto frullato in una casseruola, preparate il crumble. In tutto tutto mettete i cornflakes, il zucchero di canna, le noci e il burro fuso e frullate insieme. Disponete il crumble a strisce di circa 2-3 cm l'una dall'altra. Cuocete il vostro dolce per 30 minuti a 180 gradi. Passate il tempo, sfornate, fate raffreddare per un circo in 10 minuti, complicate con i marshmallows. Rinfornate per altri 10 minuti e poi servite. I patate dolci in casseruola con i marshmallow sono pronti. Buon appetito e buon tax giving!